L'Udc Lombarda ha presentato una proposta di legge con l'obiettivo di contrastare il gioco d'azzardo elettronico. Il progetto di legge, firmato dai tre consiglieri lombardi dell'Udc, Valerio Bettoni, Gianmarco Quadrini ed Enrico Malcora, chiede al Parlamento nazionale di intervenire con un giro di vite per limitare l'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico in Italia. Comincerà il suo iter nella Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, dove potrebbe trovare un consenso bipartisan, viste le aperture arrivate da PDL e PD. Valerio Bettoni ha precisato che il suo partito è contrario all'installazione di videopoker o slot machine in luoghi pubblici, perché questo finisce per creare difficoltà a tutti, alle famiglie, visto che questi apparecchi generano dipendenza, e allo Stato, ed è una vergogna. La proposta di legge prevede da 1000 a 6000 euro di multa per chi installa videopoker o slot machine nei luoghi pubblici, nonché la confisca e la conseguente distruzione degli apparecchi, con estensione del divieto ai luoghi aperti al pubblico, ai circoli e alle associazioni.